Ci troviamo nella sesta cornice del Purgatorio. Qui espiano i propri peccati golosi, al cospetto di un albero dai frutti profumati bagnato da una cascatella d'acqua limpida, da cui esce una voce che proclama esempi di temperanza. I personaggi sono Dante, Virgilio e Stazio. Dante e Virgilio avanzano in compagnia del poeta epico Stazio incontrato nella cornice precedente, dove espiano le proprie colpe e gli avari. Virgilio gli domanda come si sia potuto macchiare di avarizia e Stazio spiega che la sua colpa è stata quella contraria di prodigalità. Nella stessa cornice vengono infatti espiati i peccati opposti. Ad aiutare Stazio a pentirsi e a convertirsi al cristianesimo furono proprio i versi di Virgilio. I tre poeti raggiungono uno strano albero dai frutti profumati, dai cui rami risuonano esempi di temperanza.